ciao bimbi vi piacerebbe avere delle farfalline che svolazzavano per la vostra cameretta dai vediamo insieme come possiamo costruirle vi serviranno un paio di forbici del filo del cartoncino di recupero dello scotch dei pennarelli e due bastoncini degli spiedini fate togliere la punta però oppure vanno bene anche due cannucce se non avete nemmeno le cannucce potete ritagliare due striscioline da un cartoncino un po robusto con lo scotch fissate i bastoncini o le striscioline di cartoncino o le cannucce a croce vedete fissandole bene nel mezzo mettendo lo scotch prima in un senso e poi nell'altro prendete il cartoncino di recupero e apritelo come se fosse un foglio da disegno poi disegnate delle farfalle oppure come vedete io ho disegnato due farfalle due api e un fiore ciò che più vi piace se volete potete anche disegnare degli aeroplani o delle mongolfiere o dei palloncini quello che volete voi e poi colorateli coi pennarelli ecco fatto e adesso dovete ritagliarli tutti potete farvi aiutare perché non sarà proprio facile e quando li avrete tagliati avrete ancora un lavoro da fare dovrete colorarli anche dietro così il vostro lavoro sarà veramente bellissimo ecco qui ora dovrete legare ogni disegnino a un'estremità della croce fatta col cartoncino o coi bastoncini utilizzando un pezzo di filo così vedete potete legarlo o anche solo fissarlo con un pezzettino di scotch ecco fatto e per finire fissate l'ultimo disegno sempre con un pezzo di filo al centro della croce ora dovete legare un altro filo qui in mezzo e poi finalmente appendere le vostre farfalline o quello che avete disegnato dove più vi piace